Esattamente un anno fa moriva a Filiano nel Potentino dove era nato nel 1944 il magistrato Nicola Maria Pace, procuratore onorario presso la Corte di Cassazione e già procuratore della Repubblica presso i tribunali di Brescia e Trieste e capo per lungo tempo dell'apretura presso la procura circondariale di Matera. A distanza di 12 mesi dalla sua morte, Libera Basilicata e Libera Friuli Venezia Giulia hanno organizzato un riconoscimento nazionale dedicato al giudice di pace. La prima edizione si è celebrata a Matera ed ha visto premiati Donato Ceglie, sostituto procuratore generale di Napoli e il corpo forestale dello Stato. Il riconoscimento è dedicato a quanti fra magistrati e forze dell'ordine si sono contraddistinti nel contrasto alle eco-mafie e alla tratta degli esseri umani, obiettivi perseguiti dallo stesso magistrato nel corso della sua carriera. Pace, infatti, fu anche membro della commissione eco-mafie presso il Ministero dell'Ambiente su incarico del Consiglio Superiore della Magistratura, formatore nei corsi per i magistrati inquirenti italiani e stranieri presso l'Istituto Superiore di Polizia a Roma e autore di numerosi saggi. E' ricordato soprattutto per essersi distinto durante la permanenza alla guida della procura di Matera nelle indagini su traffici di rifiuti nucleari e a tutela dell'ambiente. Grazie.